Cari fratelli, pace e bene e buona giornata a tutti. Oggi è mercoledì 14 giugno e siamo ancora accompagnati dallo Spirito Santo perché sia Lui a essere la luce per comprendere meglio la parola che Gesù oggi vorrà donarci. Vieni Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni Padre dei poveri, vieni Datore dei doni, vieni Luce dei cuori, Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto, conforto. O Luce Beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla è senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che è sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona i tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio. Dona morte santa. Dona gioia eterna. Amen. Oggi ci accompagnerà ancora il Vangelo di Matteo, il capitolo quinto, dai versetti dal 17 al 19. Dal Vangelo secondo Matteo In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli, non crediate che io sia venuto ad abolire la legge o i profeti. Non sono venuto ad abolire, ma a dare pieno compimento. In verità io vi dico, finché non siano passati il cielo e la terra, non passerà un solo iota o un solo trattino della legge, senza che tutto sia avvenuto. Chi dunque trasgredirà uno solo di questi minimi precetti e insegnerà agli altri a fare tanto, sarà considerato minimo nel regno dei cieli. Chi invece li osserverà e li insegnerà, sarà considerato grande nel regno dei cieli. Chi è Gesù? Chi è Gesù? Una domanda tanto importante, essenziale per la vita del cristiano. Chi è Cristo? È lo stesso. Gesù è novità. Ma che sia solo un nuovo per il gusto della novità? Gesù per qualcuno è un sovvertitore, uno che è venuto a cambiare le cose, a smontare le sicurezze, a dire con la propria vita e con le proprie parole, non si fa più così. Bisogna cambiare. Sotto sotto chi l'ascolta ha paura. Quasi che Gesù dica, e in realtà non l'ha mai detto e questa parola ce lo conferma, che dica avete sbagliato tutto. Per fortuna sono arrivato io. Ma non è così. Gesù dice non crediate che io sia venuto ad abolire la legge o i profeti. Non sono venuto ad abolire ma a dare pieno compimento. quando viene avanti il nuovo, qualsiasi cosa esso sia nella nostra vita, guardate a un piccolo cambiamento che abbiamo dovuto subire o l'abbiamo magari scelto, si pensa sempre che bisogna cambiare tutto, annullando tutto ciò che era precedente. Arriva una persona e ci dice guarda su questa cosa si fa così e così. Ma come? Ma io non l'avevo mai pensato, non l'avevo mai vissuto. E allora tolgo tutto quello che ho vissuto finora per ascoltare quello che mi viene detto di nuovo. Non è quello che Gesù dice. Gesù non dice che lui è venuto a prendere il giusto posto, che le cose adesso con lui prenderanno il corso giusto. Non l'ha detto, non l'ha detto. Gesù non l'abolisce legge e i profeti. Cosa vuol dire? Lo sappiamo tutti. La legge e i profeti era la sacra scrittura, la parola di Dio fino al tempo di Gesù rivelata. È la parola di Dio che ha letto Gesù, che ha ascoltato Gesù, su cui ha riflettuto tanto. Gesù non si ferma lì. E lo sappiamo. Ci sono degli interlocutori, coloro che si mettono in relazione a lui, che hanno paura di questa novità. Perché sono legati alla legge, legati alla tradizione. Questo non è negativo, ma può diventarlo quando diviene un assoluto. Il legalismo, quando diviene una legge assoluta, diventa una zavorra. Loro pensano che l'incontrare Dio sia il seguire in maniera precisa, esatta, ogni precetto, ogni legge. E Gesù, il Messia, non doveva venire in quella maniera in cui è venuto. Non deve dire cose nuove che scardinino le loro sicurezze. Per questo non lo riconoscono. Perché credono che sia venuto a buttare giù tutto. Cos'è questo tutto? Le nostre sicurezze. Che Gesù, in realtà, sia quello che butta giù la nostra vita normale. Quello che a fatica abbiamo imparato. È per questo che in più parti nel Vangelo si dice, gli fecero questa domanda per vedere come avrebbe risposto. È più facile cambiare che completare. È più facile togliere tutto che dire mi inserisco, mi immetto in questa realtà per ampliarla, completarla, chissà, migliorarla. Gesù dice dare compimento. E qual è questo compimento? Cosa compie effettivamente Gesù? Il compimento più bello che Gesù ci dà e su quale tutti noi dovremmo riflettere e accogliere, accoglierlo, è il fatto che Gesù ci mostra il vero volto di Dio. Qual è questo volto di Dio? È il Dio che è padre. È un Dio che è giusto ma misericordioso. È un Dio che non condanna la persona, ma gli dà la possibilità di comprendere lo sbaglio. Perché? Perché questa persona è amata, è figlio amato. Questo è il compimento della legge dei profeti che Gesù opera. Ed è chiaro che Gesù non butta giù nulla, non dice mettete da parte tutto, completa. Quanto è bella questa delicatezza anche di Gesù che è sapienza, che è dono della sua essenza divina, l'essere colui che completa ciò che sinora di Dio già si sapeva. Il volto del padre, come a dire sono venuto a donarvi la realtà. Il padre nostro, il nostro padre, mio padre, tuo padre, è questo. Questo è compimento che compie Gesù. Allora posso chiedere nel mio cuore c'è più spazio per un Dio severo o che ha fiducia incondizionata per i suoi figli? E su questo ci giochiamo tanto, tanto della nostra fede, tanto del nostro pregare, tanto del nostro rivolgerci a Dio. Il Signore ci accompagni, lo spirito che abbiamo invocato all'inizio ci illumini per capire il dono che è questa parola per noi oggi. Il Signore sia sopra di te per proteggerti, davanti a te per guidarti, dietro di te per custodirti, accanto a te per accompagnarti, dentro di te per benedirti. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Buona giornata. Grazie a tutti.